salve! viste le numerosissime domande che mi continuate a fare nei Q&A o durante le giornate in pista quando mi incontrate in giro per il paddock o nei box del tipo allora ste come va questo GSXR? come ti trovi? perché è uno dei 1000 più bistrattati? perché non è mai considerato? perché viene considerato come il calimero delle moto 1000? mi è venuto in mente perché non farci su un video? perché non spiegare le mie umilissime sensazioni di un amatore medio come potete essere voi dopo 1600 chilometri di GSXR 1000 chi mi conosce personalmente lo sa che mi segue da anni lo sa chi mi segue da poco tempo io lo dico io ora sono una persona abbastanza obiettiva non mi va di parlare esclusivamente bene di una cosa solamente perché l'ho acquistata di conseguenza in questo video non sono qua a dirvi solo i pro di questa moto perché come ogni moto come ogni cosa sulla faccia della terra a dei pro e dei contro il mio modello è un GSXR 1000R quindi non la versione base cosa differenzia la versione R dalla versione base se non ricordo male si differenzia in forcella anteriore pressurizzata perno forcellone regolabile in altezza tubi in treccia di serie se non ricordo male la colorazione del dashboard e sinceramente non ricordo altro ma tutto sommato le considerazioni e le sensazioni di guida che vi dirò in questo video sono rivolte secondo me anche al modello base perché il 90 per cento degli amatori medi o del moto turista che usa magari un GSXR 1000 nei giri domenicali molto probabilmente la differenza tra la forcella della versione base la forcella pressurizzata non la sente neanche quindi andiamo avanti partiamo col dire che non esiste altra moto 1000 con il rapporto qualità prezzo che ha il GSXR 1000 questo è uno dei due motivi per cui io abbia scelto il GSXR il secondo motivo è senza dubbio la solidità e l'affidabilità del motore GSXR è in dubbio il 1000 è caro è caro quando si compra è caro a mantenerlo è caro a ripararlo in caso di caduta di conseguenza avevo bisogno assolutamente di una moto che non mi desse altri pensieri se non quello di cambiare olio cambiare gomme mettere benzina stop non avevo assolutamente né voglia né tempo né disponibilità economica per star dietro a una moto con manutenzioni assidue assurde costose con sensori e spie impazzite visto che non giro tanto quelle poche volte che giro voglio essere tranquillo voglio arrivare in pista a scaricare la moto essere tranquillo di non aver assolutamente problemi il GSXR è riconosciuto da anni come una delle moto più affidabili poi magari adesso alla prima accensione nella prossima giornata in pista mi esplode sotto il culo questo poi ma come ho detto nella intro del video indubbiamente ci sono pro e contro i pro li abbiamo appena detti uno dei possibili contro è che indubbiamente è più indietro dal punto di vista elettronico rispetto alla concorrenza c'è comunque tutto piattaforma inerziale abs anti wheeling traction control le mappe addirittura del cambio elettronico c'è tutto mettiamola così l'elettronica c'è e funziona benissimo è leggermente meno affinata rispetto alla concorrenza perché per esempio l'anti wheeling viaggia complementare insieme al traction control significa che se io un giorno diventassi kevin calia e avessi bisogno di disabilitare completamente l'anti wheeling automaticamente si disabiliterebbe anche il traction control che tutto sommato se uno ci pensa dalla prospettiva magari di un pilota non è neanche così sbagliata come cosa se uno ha il polso e ha la sensibilità di guidare senza traction significa che può anche gestire tranquillamente una moto che impenna e quindi anche se si disabilita completamente il traction chi se ne frega se invece la si guarda dal punto di vista magari di un amatore già un po più smaliziato o di un amatore normalissimo che ha la sensibilità di sentire la moto che magari scoda ma non è così smaliziato con una moto che impenna non può per esempio settare il traction control a2 e l'anti wheeling a3 queste cose vanno di pari passo sarebbe stato bello invece avere le due cose separate anche se settato basso o alto l'anti wheeling funziona un po alla suzuki maniera nel senso non è un intervento fluido io mi ricordo quando provavo l' rsv4 indubbiamente io ricordo all'uscita della variante bassa di imola in prima l'anti wheeling settato mi sembra o a 2 o a 3 la moto galleggiava full gas in uscita dalla variante bassa la moto galleggiava non rimbalzava galleggiava cosa fa il jazz xr fa questo se in più mettiamo il fatto che l'amatore guida male che si appende sui semi manubri e che fa continuare a sbacchettare l'anteriore perché si sbaglia questo problema qua chiaramente aumenta in maniera esponenziale poi vabbè sempre parlando di finezze assenza di sliding control assenza di controllo sul freno motore tutte frocerie che a mio modo di vedere nel 90 per cento dei partecipanti delle giornate in pista servono solo per vantarsi con l'amico quando la moto è sui cavalletti perché poi stringendo tutto sommato non le utilizza nessuno ricapitolando l'elettronica del jazz xr c'è e funziona mettiamola così non è così tanto marchettara come lo è quello della concorrenza ok è uno dei punti più soggettivi può piacere non piacere a me sicuramente piace l'ho acquistata perché mi piace altrimenti non l'avrei presa è uno dei pochi mille giapponesi che realmente mi piace guardandola in foto non mi ha mai entusiasmato guardandola dal vivo in versione pista soprattutto mi piace mi piace veramente tanto mi piace il fatto che sia snella sembra quasi un 600 visto dal vivo la cosa che mi ha sempre fatto storcere un po il naso delle moto giapponesi soprattutto con il motore 4 in linea è sempre stata la grossezza è sempre stato il fatto che sembrano sembravano sempre moto tozze moto obese moto grosse questa sensazione sul jazz xr quando l'ho vista veramente dal vivo non l'ho mai avuta ma ma come ho detto a inizio video bisogna essere obiettivi le italiane sono un'altra cosa design italiano è un'altra cosa ducati aprilia fanno dal punto di vista di design fanno un altro mestiere è una moto che molti definiscono sempliciotta ma a mio modo di vedere una moto che va dal sodo va dalla sostanza personalmente la piastra di sterzo del jazz xr mi fa vomitare cioè fa schifo sembra veramente fatta con uno stampo marmorio in tuffo sembra veramente una piastra di tuffo ma nel complesso per l'utilizzo che ne devo fare io sì quando la guardo non mi piace ma ma che cazzo me ne frega cioè voglio dire se mi devi togliere tutte queste cose per farmi pagare la moto 8 mila euro in meno personalmente per le mie condizioni economiche mi va bene non me ne frega nulla tutto però è dove deve essere tutto è come deve essere smontandola per esempio per montare le carene da pista ci si rende conto della chirurgia della precisione della perfezione con cui sono montate le carene sono montati i cablaggi tutto è al posto giusto tutto è lì dove deve essere tutto è a portata di mano perché io ricordo bene quando ho trasformato la panigale da strada a pista ricordo bene e molto probabilmente le bestemmie riecheggiano ancora in qualche valle con il jazz xr per smontare e montare le carene da pista ci ho messo due ore talmente fluido e facile che sembra quasi di non avere 200 cavalli finché non entra la fasatura variabile perché nel momento in cui entra la fasatura variabile addios motore infinito potentissimo fluidissimo facile in una parola facile è un motore che ha detta praticamente di tutti non solo di me che l'ho acquistata non solo dei possessori gs xr è l'unico motore mille che vi fa quasi dimenticare di farci manutenzione cambio fluidissimo cambio anni luce avanti rispetto per esempio alla 899 che avevo che per far entrare le marce dovevo prendere a calci il cambio veramente morbido fluido e velocissimo tornando sul discorso obiettività non posso far a meno di parlare di un'altra cosa che non mi piace cioè l'onoff l'onoff è indubbiamente presente e molto evidente specialmente nell'utilizzo pista quando per esempio si va a riprendere in mano il gas soprattutto magari nelle curve più lente l'onoff indubbiamente c'è e si sente cosa che sicuramente si può andare a migliorare andando a montare uno scarico completo con una mappa dedicata in una parola facile moto facilissima difficilmente mette in difficoltà questa moto difficilmente non fa quello che le si vuol far fare ingresso in curva velocissimo stabilità in percorrenza come ho già detto in un video precedente mi ricorda molto l'intuitività e la facilità di guida che avevo provato sulla rsv4 alt alt compagno di due moto completamente diverse non voglio mettere a paragone rsv4 e g6 r anche perché una costa mila euro in più dell'altra ma la sensazione l'emozione l'intuitività e la facilità che mi dava rsv4 quando la provavo l'ho ritrovata moltissimo nel g6 r io la prima volta che sono andato a misano la prima pistata con il g6 r le varianti del parco le faceva da sola io giravo la testa guardavo in uscita della curva e lei entrava in curva veramente mi piace moltissimo il fatto che sia facile anteriore granitico l'anteriore che ti trasmette veramente quello che sta facendo che sta passando sul cordolo che sta passando su una traiettoria sbagliata che è in traiettoria che quindi c'ha grip ti da veramente la sensazione di quello che sta facendo molti si lamentano per esempio del mono posteriore io sinceramente in questi 600 chilometri con i tempi che ho fatto che non sono tutto rispetto ma non sono neanche dei tempi merdosi per come guido io al momento ancora non l'ho messo in difficoltà quindi non posso assolutamente dir niente e la regolazione ancora standard non ho toccato niente del mono solo dato un po di precarico alla forcella davanti quando prendo in mano il gas in uscita sento subito feeling sento che la moto si schiaccia e prende grip al momento non allarga non stringe non saltella non pompa al momento per come è la mia guida per come vado io momento non mi ha mai messo in difficoltà moltissimi moltissimi si lamentano della frenata si lamentano della pompa e si lamentano dell'intervento dell'abs io l'abs per non saperne leggere e ne scrivere l'ho disabilitato tirando via il fusibile ancor prima di entrare in pista sarei stato molto curioso di provarlo con l'abs sinceramente per verificare appunto se tutte le cose che si dicono sono vere a un abs che interviene molto che si sente molto specialmente in pista dove il freno ovviamente si strizza moltissimi si lamentano anche della pompa a freno io sinceramente o pompa freno originale pastiglie originale tutto originale solo a cremona ho notato un po un allungamento della corsa della leva si allungava un po ma comunque utilizzabile molti cambiano subito tutto molti prendono quella pompa e la lanciano nel water e molti cambiano le pastiglie ancora prima di provarle io sinceramente ripeto tutto stock e nel momento in cui scenderanno i tempi nel momento in cui mi renderò conto che la frenata non mi dà più fiducia andremo magari a intervenire sulla pompa o sulle pastiglie una cosa invece che sicuramente vorrei andare a cambiare è tutto il discorso abs perché abilitando solo il fusibile non si va a intervenire proprio sulla corsa dell'olio all'interno dell'impianto questo perché perché il sistema abs è così formato i tubi partono dalla pompa scendono giù vanno dentro il telaio vanno la centralina abs dalla centralina abs scendono giù escono dal telaio e vanno giù alla pinza e si sdoppia quindi l'olio è costretto a fare tutto questo giro quello che vorrei andare a fare io di andare a semplificare completamente questo giro non tanto perché ripeto la potenza frenante non è abbastanza la potenza c'è ma andare appunto a semplificare a migliorare il percorso che deve fare l'olio per arrivare alle pinze tirar via tutto il cablaggio della bs fare essenzialmente due tubi diretti che dalla pompa vanno alle pinze quindi concludendo perché questo stramaledetto gsxr non è poi così tanto considerato da parte degli amatori soprattutto in pista forse perché nelle comparative per esempio soprattutto in pista non ha mai spiccato non ha mai vinto le comparative in pista ste che comparative sono così fondamentali nella scelta di una moto a mio modo di vedere per come la penso io no ci sono cose molto più importanti rispetto a una stampata di tempi su una comparativa ci sono le sensazioni di guida c'è la facilità di guida perché ripeto siamo amatori che il più delle volte quando va bene va una volta al mese in pista o due volte al mese in pista devo salire su una moto che che mi dà sensazioni positive che mi faccia divertire salire una volta al mese su una moto da 200 cavalli deve essere facile deve essere divertente non deve essere un lavoro quello che si sente spesso in giro quando si chiede perché il gsxr è così poco considerato è il fatto che questa moto qua nelle competizioni nazionali non ha mai spiccato non ha mai vinto vero non hanno torto ma bisogna considerare che soprattutto nelle competizioni un ruolo molto ma molto importante lo gioca il sostegno il supporto della casa madre se i vari team nelle competizioni nazionali si accorgono che la casa madre a cuore lo sviluppo della moto sicuramente sono molto più invogliati a scegliere quella moto lì per poter affrontare un campionato quanto yamaha supporta i suoi team nei campionati nazionali quanto ducati supporta i suoi team nei campionati nazionali e quanto lo fa o lo ha fatto suzuki quindi per rispondere alla domanda iniziale perché il gsxr non è poi considerato come tutte le altre moto mille non lo so non ho assolutamente le competenze per darvi una risposta certa evidentemente uno dei possibili motivi è che sicuramente in italia qualcosa in determinati uffici non va come dovrebbe andare detto questo io spero che il video vi sia piaciuto spero che sia stato utile per chi magari è interessato a questo tipo di moto qua se non l'aveste già fatto vi invito a iscrivervi a lasciare un like a lasciare un commento a farmi sapere appunto se siete d'accordo se non siete d'accordo se siete interessati a questo tipo di modello se chi ce l'ha alle stesse mie sensazioni o le ha magari diametralmente opposte fatemelo sapere e ci si vede a un prossimo video salve